E ora, se guardate bene, fuori si vedono chili di gel, donne truccate, motori rombanti. Signore e signori, vi presento il gruppo di danza che presenterà Chris. Un grande applauso. Loro sono Sofia, Martina, Chiara, Francesca, Beatrice, Giulia, Michele, Daniel, Francesco, Marco e Francesca. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti